Jeffersson, finalmente una prestazione ottima anche per te, dall'inizio forse qualche sbavatura nelle precedenti uscite, un'ottima partita anche da parte tua, come lo tuo pensiero? Il pensiero è sempre quello di continuare a fare bene, io sto giocando di meno di noi però lavoro sempre in settimana per quando il mister mi chiama e essere sempre pronto per andare in meglio e per aiutare la squadra Sei contento dopo questi primi mesi di aver scelto di quest'anno? Io contentissimo, ma non solo a voi, a tutti che mi trovo in giro, con le persone, con i tifosi, io sono molto contento perché sto molto bene qua Sabato, domenica c'è l'Ischia che è una partita difficilissima Molto giusto, poi ora ho visto che hanno preso due linforzi che sono due i miei ex-combine che lo conosco quindi dobbiamo stare molto attenti, preparare bene in settimana la partita per poter fare il meglio possibile e portare a casa dei punti Infine una doppia domanda fatta anche prima con te, sa qual è l'obiettivo e con chi ero particolarmente legato in questi primi mesi? Con chi ho legato dico con tutti praticamente perché siamo davvero un bel gruppo ogni settimana siamo insieme quando sono arrivato qua ho trovato davvero dei ragazzi che vogliono stare insieme vogliono fare un bel gruppo perché sanno che questo porta alla vittoria, a stare bene insieme e poi per la partita, pensiamo sempre partita per partita, il sogno c'è però ci sono tante squadre grandi quindi dobbiamo giocare sempre, non possiamo lasciare niente, niente perché sennò alla fine mancherà questi punti L'obiettivo è stare là in alto, poi vediamo fino alla fine del partito, il campionato è lungo, siamo appena a 10 partite, quindi aspettiamo un po'